A dieci anni dall'ultima campagna fotografica di Sguardi Gardesani, il MAG propone un nuovo progetto pluriennale sulla fotografia d'autore volta a indagare il paesaggio contemporaneo nella zona del Lago di Garda. Con i lavori di Edoardo De Lille, Gabriele Galimberti e Paolo Woods, il MAG inaugura un nuovo percorso espositivo ed editoriale, chiamato per continuità con l'esperienza stessa dei musei, nuovo Sguardi Gardesani, curato dalla storica della fotografia e fotoeditor Giovanna Calvenzi. Le opere dei tre fotografi saranno esposte negli spazi del Museo di Riva del Garda dal 1 luglio al 5 novembre 2017. Sguardi Gardesani è stato un progetto del Museo Civico di Riva del Garda che ha prodotto nel corso del decennio, a cavallo tra il Novecento e il 2000, cinque mostre e altrettante pubblicazioni. Dal 1997 al 2007 sono stati invitati dieci fotografi di fama internazionale, i quali hanno documentato e indagato attraverso le loro visioni diversi aspetti del paesaggio gardesano. I tre fotografi proposti ora da Giovanna Calvenzi per il primo ciclo dei Nuovi Sguardi Gardesani ha prodotto personali narrazioni del paesaggio dell'Alto Garda, frutto delle diverse suggestioni individuali e professionali di ognuno di loro. Dai lavori di De Lille, Galimberti e Woods si traducono iconografie dei paesaggi umani e naturali, indagati in profondità, che aprono a nuove prospettive sugli istanti fermati nelle immagini.